Ancora maltempo previsto in Abruzzo, temperature basse e possibilità di nevicate anche a quote collinari e pedomontane. Vasto e chieti verranno interessate anche in zone pianeggianti. Sicuramente avremo ancora condizioni di tempo perturbato nel pomeriggio sera di sabato perché la circolazione depressionaria stavolta sta interessando direttamente la nostra regione ma in particolar modo il settore centro-orientale dove le temperature sono diminuite e nevica intorno ai 400-500 metri. Dalla serata è previsto, ma non prima della serata, è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se si tratterà di una fase temporanea. A partire dal pomeriggio di domani assisteremo un nuovo peggioramento, stavolta provocato dall'arrivo anche se marginale di un impulso di aria gelida di origine artica che darà luogo a fenomeni di instabilità ma anche a una generale e sensibile diminuzione delle temperature. Tra la serata di domenica e la mattina di lunedì ci saranno anche ulteriori peggioramenti. Domani, nella giornata di domenica, soprattutto nel pomeriggio sera, assisteremo a un nuovo peggioramento stavolta che riguarderà in particolar modo il settore orientale, la fascia costiera, le zone collinari che si affacciano sul versante orientale. Insomma cadrà la neve però non sarà un peggioramento consistente ma soprattutto risulterà piuttosto rapido.